Nell'anno che sarà ricordato come quello della ripartenza, dopo l'emergenza Covid, Andrea rivivrà la sua fiera d'aprile nel 585esimo anniversario del ritrovamento delle ossa di San Riccardo, avvenuto il 23 aprile del 1438. Una ricorrenza molto sentita dai cittadini e da sempre celebrata con colori, rievocazioni storiche, eventi culturali e degustazioni. Dopo due anni di stop e tutto il tempo a disposizione per organizzarlo nei minimi dettagli, nonostante le difficoltà della pandemia, la manifestazione è stata presentata in tutta fretta, senza cartellonistica e brochure e praticamente a due giorni dall'inizio della fiera che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 aprile. La conferenza stampa di presentazione in comune è stata convocata solo un'ora prima, dopo che la Giunta ha approvato in giornata il programma della rassegna. A parte questo aspetto, sono diversi gli appuntamenti, non ci sarà il corteo, sarà un testo poetico dell'Associazione Alfa Teatro a raccontare la rievocazione, protagonisti, luoghi della cultura come il Museo Diocesano con opere del 400 esposte, biblioteca comunale, ufficio IAT e poi ancora lo spettacolo di Max Paiella di Radio 2 all'Oratorio Salesiano, il concerto di primavera, cura della scuola dell'infanzia paritaria Oasi San Francesco e l'evento Dante a Colori nella villa comunale. In Piazza Duomo invece ci sarà un'installazione dell'Associazione Ine Young. Loro hanno realizzato in una maniera bellissima con tante signore che ogni pomeriggio si sono incontrate, una per una mattonelle che cucite insieme realizzeranno e comporranno una farfalla, le ali della libertà appunto che sarà posta in Piazza Duomo. In programma anche le classiche bancarelle, in numero ridotto rispetto al passato, che saranno situate in corso Cavour tra l'intersezione con Viale Roma ed il passaggio a livello di Viale Gramsci. Non mancheranno degustazioni ed eventi musicali, sullo sfondo anche la beneficenza. Ci sarà un evento nel Chiostro di San Francesco a favore delle famiglie pro-ucraine, quindi il ricavato sarà devoluto a sostegno di queste famiglie. Ci sarà un'animazione musicale a Piazza Balilla, ci sarà un'animazione musicale a Piazza Duomo e quindi due giornate anche nel Chiostro di San Francesco con la strada di Vini. Cercheremo insomma di offrire alla città la possibilità di degustare i prodotti tipici e nuogastronomici ma anche momenti di svag, di serenità. Presentata anche la seconda edizione di Andrea Pedala, una biciclettata che si snoderà lungo le periferie domenica 24 aprile alle 10.30 da Largo Torneo per rilanciare la mobilità sostenibile. Il tutto, ha sottolineato il sindaco Giovanna Bruno, a costi contenuti le spese a carico dell'ente comunale riguarderanno alcuni rimborsi e la SIAE. 3 e 2 mila 24.